Musica E allora, questo vuol dire benvenuti a tutti alla festa di Sei di Volpiano Se, un sogno per l'Operdino Esagerati, esagerati Oratorio Gremito oggi qui a Volpiano per la festa organizzata da Sei di Volpiano Se Un sogno per Robertino Un sogno, il sogno, il sogno di Robertino, noi la chiamiamo così C'è chi la chiama un sogno per lui, però è il sogno di Robertino, perché è il suo sogno E appunto il suo sogno è comprarsi questa macchina, questa macchina particolare per lui Noi oggi abbiamo dato tanto, abbiamo dato tutto quello che potevamo come persone Abbiamo fatto tutto quello che potevamo Il risultato è alle mie spalle, si vede, la gente ha partecipato Ma oltre alla partecipazione della gente che è venuta a mangiare, proprio le donazioni Abbiamo avuto parecchie, diciamo parecchie, non esagerato, però parecchie donazioni Da persone che sono venute, hanno lasciato le donazioni e sono andate via, senza neanche pranzare Questo per noi vuol dire tanto, vuol dire che ci credono Credono in noi, sanno quello che facciamo E siamo contenti Siamo contenti, siamo contenti anche di aver avuto qua la squadra di Serie A di basket Uno di loro è un altro Roberto Sempre anche loro in carrozzella Bravissimi Lui è di Volpiano, Roberto di Volpiano, la squadra di Torino Ma fa sempre parte del gruppo Serie Volpiano 6 Già nei giorni passati avevamo la sensazione Oltre che la gente prenotava e tutto Sapevamo anche il quantitativo delle persone Però proprio la festa, perché comunque la gente è venuta carica È venuta qui per fare festa, per divertirsi E per dare il contributo a Robertino La presenza, il calore, tutto ciò che ognuno di noi può esprimere Verso chi ha delle difficoltà E combatte tutti i giorni per dire ci sono anch'io E questa è la cosa più bella che c'è Perché comunque alla fine cerchiamo di essere utili nel nostro piccolo Cerchiamo di essere utili e di portare un beneficio Un piccolo sorriso, per come dico sempre io Un passo in più per realizzare i sogni del tuo fratello? Ma sì Guarda, sono senza parole Non sapevo di trovare tutta questa gente Devo ringraziare in primis il viaggio Perché ha avuto l'idea, con Pino E tutto il gruppo sai di dove piano se Per realizzare appunto questo sogno di Roby Che abbiamo detto proviamoci Non si sa mai Grazie all'aiuto loro soprattutto Siamo riusciti a riempire una palestra L'abbiamo riempita E niente, emozione Speriamo di continuare così Tanti auguri a parte a Robertino Al gruppo Biaggio Pino e tutti Vi ricordo che lui è il fratello di Robertino Quindi Fabio A noi ci lega Ci lega i colori Che siamo Granata Però qua è un colore unico Il colore del cuore Il colore dell'amore Il colore di tutto Adesso